Signore e signori buonasera, sono Alessio Sabatini e per la prima volta vi presento la mia costruzione nata dalla sfida che mi sono posto quest'inverno, realizzare un motore elettrico autocostruito. Questo è il motore, qui abbiamo il supporto per la borsa con i due porta carna, uno per lato e per l'occasione ho deciso di collegarlo a un piccolo trasformatorino, solo per farvi vedere che questo non è un giocattolo, ma realmente funziona. Adesso vi dico come funziona, questo pulsante rosso qui è quello che manda la corrente al motore, questo è un invertitore per andare avanti e indietro. Adesso vi mostro il motore in funzione. Avanti e indietro. Qui abbiamo il vano batterie, dove sarà alloggiata la batteria qualora sarà il suo tempo. Ok, il prossimo video sarà la prova in acqua.